Il Pescara è una squadra molto simile nelle caratteristiche generali all'Empoli perché è stata costruita con qualità e secondo me poi alla lunga le squadre che esprimono valori tecnici hanno più possibilità di vincere. Massimo ha fatto benissimo l'anno scorso quando è subentrato caratterizzando fortemente la squadra sotto il profilo tecnico. Quest'anno tranne quel periodo dove la squadra non riusciva a vincere ci può stare perché il campionato di Serie B è lungo e non puoi pensare di stare sempre al 100%. Adesso è tornata una squadra forte che autostima e che penso abbia grandi chance per la vittoria finale. Massimo è bravo rispondendo alla tua domanda. E' bravo perché comunque ha tante esperienze, è stato giocatore di alto livello, sai cosa significa giocare nelle grandi squadre, soprattutto nella mentalità vincente che poi riesce a trasmettere alla squadra. Pescara-Bari-Trapani, c'è una favorita Marco? Il Trapani è la sorpresa forse, grande entusiasmo, squadra sbarazzina, allenatore esperto. Il Pescara, a mio avviso, è una squadra che ha più qualità rispetto alle tre. E' Bari, Bari galleggia tra l'A e la B a storia, così come il Pescara. Credo, è difficile fare un pronostico. Io per Abruzzesi mi auguro che la spunti il Pescara. Ma non ci vuoi dire nulla sul tuo futuro, dai? Il mio futuro per adesso è a casa, Giuliano, non ho contratto, quindi è sicuro, sicuro è questo. Gli attestati di stima però che arrivano da Milano, sponda rosso-nera, sono sicuramente importanti, fanno piacere. Ma essere accostato a quella panchina lì è un onore per me, ci mancherebbe, però poi punto, altro non c'è.